Ho detto già che i tempi non sono ancora maturi, ci vorranno ancora di giorni e quando ci saranno queste conclusioni saprete chi sarà il direttore, chi sarà l'allenatore, chi saranno i giocatori. Allora proprio per fare chiarezza si può parlare di un'imminente cessione di una parte delle quote perché si è detto di questo 30-35% che sarà ceduto e successivamente l'annuncio del direttore dell'Icarri. La mia idea, lo sapete tutti, era quella di trovare un interlocutore che comprasse tutta la società o perlomeno le mie quote di maggioranza, se così non sarà sarà magari nell'altra forma, quello che dicevi tu va bene uguale per un periodo ma sicuramente saranno persone che condivideranno un progetto, che decideranno insieme a me per questo periodo le cose da fare e quindi è giusto ed è anche corretto aspettarli per capire dentro una data che io chiaramente ho dato, che non può andare sicuramente oltre la metà di questo mese, chi sarà il nostro partner e quindi a quel punto puoi decidere. Come ho detto a qualche tuo collega, dell'Icarri è forse uno dei pochi che in questi anni, nonostante fosse fuori dal calcio italiano, mi ha dato una mano per cercare di trovare delle soluzioni su possibilità di vendita della società, sicuramente non sarà un problema dell'Icarri, per quanto riguarda l'allenatore è tutto in alto mare. Guidi si è sistemato a Roma, manca l'ufficialità ma si è sistemato. Sono contento per lui. Lo dico, esce un candidato che era autorevole. Sì, ma secondo me Guidi è un buon allenatore alla pari dei nomi che sento, al momento noi non abbiamo parlato con queste persone, per cui ci parleremo quando qualcun altro insieme a me deciderà l'elenco delle persone da interpellare. Ma Zeman è in ascesa come quotazione perché lei lunedì ha detto che se dipendesse da me, visto che è contro anche i rapporti personali, io direi di no. La presenza magari eventuale di dell'Icarri potrebbe far salire le chance di Zeman? Ma ve lo ripeto, se dipende da me no. Invece le faccio flash altri nomi, Caneo, Cudini, è uscito fuori anche il nome di Colombo che però pare non essere stato interpellato. Sapete più voi che io. Sono gli allenatori che sono liberi, quindi è giusto che escono i loro nomi, però al momento non c'è nulla su questa persona. Una tempistica sulla definizione dello staff tecnico la possiamo dare, se non ancora per la definizione societaria? Dopo metà giugno. Grazie. 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 Grazie.